Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video vi parlerò di che cosa devi sapere se devi mettere l'apparecchio fisso. Se devi mettere l'apparecchio fisso il tuo medico per prima cosa ti visiterà per porre una diagnosi e per stabilire se necessiti appunto del trattamento ortodontico. Successivamente prenderà le impronte delle tue arcate dentali che potranno essere appunto delle impronte classiche con le paste o delle impronte digitali e queste permetteranno di ottenere dei modelli in gesso o dei modelli virtuali per studiare il tuo caso. Poi ti prescriverà ovviamente delle radiografie specifiche cioè una panoramica dei tuoi denti e una radiografia del cranio di profilo per fare degli studi cefalometrici specifici e vedere come andrà la tua crescita soprattutto se si tratta di un bambino o di un adolescente. Infine sarà necessario anche fare un check up fotografico dello stato pretrattamento. Una volta che il caso è stato ben studiato a quel punto poi sarà possibile montare l'apparecchio che può essere appunto eseguito con dei bracket cioè con delle stelline tradizionali in metallo che possono essere anche auto eleganti in alcuni casi oppure con delle stelline come puoi vedere in questa foto in ceramica. In che cosa consiste la procedura di montaggio dell'apparecchio che si chiama poi bandaggio? Consiste nel montare appunto le stelline che tecnicamente si chiamano bracket, il filo e poi anche gli elastici che vanno a legare il filo alla stellina. In questo modo si andranno a creare delle forze specifiche che permetteranno ai denti di essere tirati e quindi di potersi spostare. La procedura di montaggio dell'apparecchio quindi il bandaggio dura all'incirca tra i 20 e i 30 minuti. Solitamente si esegue prima il bandaggio a carico dell'arcata dentale superiore e poi a distanza di circa 4 barra 6 mesi si eseguirà il bandaggio a carico dell'arcata inferiore. Quali sono le fasi del bandaggio? In primo luogo si andrà ad inserire una pribocca e un aspiratore per la saliva perché bisognerà tenere tutto quanto asciutto perché se si bagnano i denti le stelline non possono attaccarsi e poi chiaramente si andrà ad eseguire un polishing dentale cioè una pulizia delle superfici dei denti per rimuovere la placca perché se è presente la placca sui denti diciamo che la stellina non potrà attaccarsi nel modo giusto. Poi con un acido specifico che prende il nome di mordenzante si andrà a preparare la superficie del dente a renderla più ruvida per poter garantire un legame adesivo migliore della stellina con il dente. Successivamente si applicherà l'adesivo sui denti attraverso un pennellino specifico e questo adesivo sarà poi attivato con una lampada blu fotopolimerizzante e poi alla fine saranno applicate le stelline con la resina cioè col composito e anche queste ultime poi bisognerà sottoporle all'esposizione della luce blu proprio per fare in modo che diciamo il composito indurisca. E poi si applica il filo e si mettono o gli elastici oppure le legature metalliche che servono appunto o gli elastici o le legature metalliche a legare il filo alla stellina. I successivi controlli poi avverranno a distanza di 20-30 giorni e nei vari controlli quello che si fa è cambiare solitamente i fili cioè gli archi e gli elastici poi ovviamente in base al caso specifico potrà essere necessario fare lo stripping o applicare ulteriori ausiliari ortodontici cioè ulteriori dispositivi che possano permettere all'automedico di ottenere degli spostamenti dentali specifici. Di solito si inizia con degli archi sottili ed elastici che sono di forma tonda in nickel titanio e poi progressivamente nel corso dei mesi si passa ad archi più doppie più rigidi in acciaio rettangolari che si utilizzano nelle fasi finali una volta che l'allineamento è stato ottenuto. Durante la terapia potrà essere necessario quindi utilizzare ulteriori ausiliari. Una volta raggiunti gli obiettivi terapeutici sarà possibile rimuovere l'appraecchio e applicare dei dispositivi che possono essere mobili o fissi che prendono il nome di contenzione e servono a mantenere il risultato così ottenuto perché i denti se non si applicano queste contenzioni alla fine del trattamento possono ritornare leggermente storti. La durata di un trattamento ortodontico fisso oscilla tra i 12 e i 24 mesi. Contattami in privato se devi avere maggiori informazioni o se vuoi comunque sia prenotare una visita gratuita. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace iscriviti al canale e condividilo con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per aiutarmi a creare contenuti sempre più di qualità sul mio canale.